Eccoci qua ragazzi, registrazione volante, non era in programma questa cosa, siamo ovviamente su TradingView, questo è la MetaTrader 4 con il Pegasus Beginner praticamente appena aperto 10 minuti fa e ho visto un'occasione veramente fantastica che secondo me è assolutamente da sfruttare. Adesso apro subito una posizione short e segniamo qui dove l'ho aperta, un po' anticipando qua, ok? Adesso segniamo qui dove l'ho aperta. Ok, questo video non era, non era 1, 3, 5, 9, 5, 4, non era preventivato, ma essendo che ho visto una cosa abbastanza valida diciamo come situazione, ho deciso di accendere tutto e registrare in modo tale che facciamo un altro video, ok? Allora, intanto Balla è quasi già in profitto, vediamo un attimo il discorso. Allora, qui anticipato un segnale, ammazza drawdown, toglio con questa linea se no non si vede, ammazza drawdown short, ok? Qui, pallini rossi del Trend Meter e primo segnale sell, sono arrivato in ritardo però ho aperto praticamente allo stesso livello, ok? Parliamo di 3 tick, ok? Di differenza, quindi va bene qua comunque lo short. E qui, attenzione perché è qualcosa di devastante. Allora, qui siamo in M15, vi faccio vedere l'analisi che ho fatto, volantissima, eh? Allora, abbiamo Fibonacci, Long Week e anche un grande livello, esattamente qui, di... In questo caso supporto resistenza, in questo caso dovrebbe essere una resistenza, ok? Toggo la suoneria al telefono perché mi sono messo a registrare al volo per far vedere questa cosa perché... Credo che sia importante, ok? Allora, qui, viste anche le inefficienze che ho sotto, cioè questa, il segno per chi magari non conosce chi è nuovo, giustamente, oppure questa, tutti argomenti e concetti spiegati sul canale YouTube di Spaghetti Forex. Ovviamente ci sono anche qui delle inefficienze, potremmo segnare questa come un'unica inefficienza, ok? Però, essendo che ci sono diversi livelli qui di resistenza, è plausibile, diciamo, è auspicabile che faccia una cosa del genere. Per poi andare o su o giù, ok? Però almeno arrivi fin qua a metà di questa inefficienza, ci sei? Non so se mi spiego. Per vedere la metà dell'inefficienza mettiamo il nostro Fibonacci. Mettiamo così e cambiamo mettendo il 50%, ok? Io mi aspetto che possa arrivare fin qua. Vorrei far presente come stiamo andando, ok? Vorrei far presente come, cavolo, stiamo andando. Ingrandisco. Vediamo qua, ok? Vediamo se mi arriva a Target. Sto cercando di forzarmi, forse un po', però anche, insomma, siamo tutti qui per migliorare, no? E non uscire troppo presto quando vado in profitto, ok? Come vedi, l'analisi è buona. Magari posso chiudere anche sulla media, 100. Se il prezzo arrivasse alla media 100, potrei chiudere anche sulla media 100. Metto in M1 per vedere esattamente dov'è. Ok. Perfetto. E vediamo cosa succede, se mi dà ragione o se va su. Ok. Secondo me, almeno alla media 100 ci arriva, ma potrebbe tranquillamente arrivare a metà di questa inefficienza. Senza ansie, senza alcun tipo di, insomma, bisogna essere sicuri delle proprie analisi, bisogna aver fatto esperienza, bisogna sapere che quello che si sta facendo ha un senso logico, ok? Poi è ovvio che qui adesso probabilmente mi potrebbe fare un piccolo, diciamo, ritraccio, chiamiamolo così, per poi andare di nuovo più giù. Però io so che esiste un random walk, io so che adesso lo stocastico è in ipervenduto, io so, io so, io so. Quindi, tranquillissimamente, ok? Non mi faccio prendere dal panico, sto andando bene, non ho nulla di cui temere, ho anche il Pegaso Beginner a mio supporto che mi dà un controllo totale sulla situazione e quindi non ho veramente nulla da temere. Adesso vi faccio vedere anche nel gruppo Telegram che qualcuno aveva, diciamo così, segnalato questa cosa. Vediamo un po', ovviamente si sarebbe già potuti chiudere qua, però io voglio arrivare almeno alla media, mi sono imposto questa cosa. Ho aperto a due terzi del rischio con un rischio di 0,4 per PIP, ok? Attenzione, attenzione qua, dobbiamo essere precisi. Se arriva alla media o qua, diciamo, io posso già iniziare a chiudere, ok? Allora, volevo far vedere, come dicevo prima, che qualcuno aveva già segnalato questa situazione, se non sbaglio. Sto cercando nel gruppo Telegram di Spaghetti Forex, ecco qui. Ecco qui, stiamo parlando di questo, esattamente questo, ok? Euro, no, USD, CAD, come vedi, è già stato segnalato nel gruppo Telegram di Spaghetti Forex. Se non sei ancora entrato, mi raccomando, utilissimo, ci sono una sbalangata di grafici, grafici, contestualizzazioni, considerazioni, risultati, uno 0,83% in un'ora e 37, bravissimi. Comunque, insomma, c'è uno dietro l'altro, ok? Per favore, se non sei ancora entrato, entra perché ne vale veramente la pena. 0,71% in due ore e 35, eccetera, parliamo sempre di percentuali, ok? Adesso mi sta facendo quel ritraccio di cui parlavo prima, sta tornando un po' su, come voleva si dimostrare, sto classico RSI in ipervenduto, adesso mi torna su, e vediamo, qui è sulle medie, però l'analisi qui è molto, 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 molto buona, ok? Non mi faccio scoraggiare da questo calo, diciamo così, che ho avuto, potevo chiudere a più 2% e qualcosa, voglio assolutamente forzarmi a tenere aperto le mie analisi perché so che sono molto valide, ok? Quindi può tranquillamente arrivare sulla media, se non addirittura al 50% di questa inefficienza, perché questa long week è veramente devastante, ok? Ok? Vediamo che cosa succede. Attenzione, come vedi, come vedi, alla fine, come vedi, sta arrivando, sta arrivando al punto che avevo previsto, diciamo così, non mi piace la parola previsione, però comunque che avevo, diciamo, auspicato, l'analisi era abbastanza buona, e vediamo se mi arriva al 3%, se mi arriva al 3%, questa volta chiudo perché... 3,04, attenzione, sta ballando attorno al 3%, vorrei chiudere almeno al 3% questa posizione fantastica che ho visto al volo guardando il gruppo Telegram di Spaghetti Forex, vediamo se ce la faccio, attenzione, attenzione, vediamo se ce la faccio, ah ah ah, ok, perfetto, ragazzi, più 3,04% in 22 minuti, alla faccia di chi dice che ha time frame bassi, no? Entrando con un segnale esattamente qui, un po' anticipato, eh, per carità, in M1 si deve stare a grafico tutto il giorno, con gli strumenti giusti come i software del progetto Pegaso e il supporto di una community, di una community veramente, veramente, veramente grande perché vedono delle cose, cioè 100 occhi che guardano i grafici tutto il giorno, è qualcosa di devastante, danno dei segnali, danno delle analisi incredibili, ci si può riuscire, non c'è bisogno di fottersi la giornata 10 ore davanti al grafico o cosa? Basta selezionare l'ingresso giusto e contestualizzare con, da una parte, la sicurezza di avere una strategia valida che ti dà un segnale d'ingresso valido e anche il fatto di sapere, di aver fatto pratica e quindi di saper contestualizzare bene, dall'altra parte, sempre con la consapevolezza che esiste la random walk, quindi pronti a entrare per gestire eventuali perdite non previste. Tutto lì, ok? Spieghiamo tutto nel canale YouTube, per favore, vai a vedere i video se non li hai ancora guardate, è qualcosa di devastante. Comunque, come al solito, secondo me si potrebbe fare meglio. Grazie a tutti.